Sky Cinema Family presenta i grandi film di Disney Cinemagic La storia di un giovane ragazzo Sì, io mi chiamo Artù, ma tutti mi chiamano Simona E un mago eccentrico In una leggendaria avventura Vivi l'indimenticabile magia di un grande classico d'animazione Disney Disney Cinemagic presenta La Spada nella Roccia Sabato 15 marzo alle 21 su Sky Cinema Family Grazie per la visione